benvenute allora oggi sfogliamo insieme il nuovo album numero 11 del libro che è un album che è pieno di novità e tantissime offerte per il rientro dalle vacanze tanti set regalo e tante promozioni spero di averle fatte capire tutte nell'album ma nel caso sono sempre qui direi di non esitare oltre e iniziamo a sfogliarlo eccoci allora iniziamo perché è davvero un album molto pieno vediamo intanto con l'acquisto di almeno 15 euro di tutti i prodotti che adesso vedremo si ha in omaggio in sette giorni di trattamento ed si può scegliere eccolo qui il trattamento crema fondamentale giorno trattamento levigante giorno o trattamento rimpolpante giorno con il codice sottolineato scegliete quello che volete oppure un'altra cosa ma lo vedrete dopo intanto set di shampoo intanto abbiamo i nuovi shampoo e balsamo della linea brillantezza intensa eccoli qua questo è lo shampoo e questo è il balsamo quindi un prodotto che districa ammorbidisce i capelli e soprattutto gli rende molto brillanti fanno parte anche loro dei set ecco di più farvelo capire un secondo il set che è shampoo e balsamo a 5 euro quindi si può scegliere lo shampoo e il balsamo anche di linee diverse l'importante che è shampoo con il codice e il balsamo con l'altro codice sottolineato anche tra questi ovviamente ecco anche tra questi e ovviamente e questi sono i balsamo il codice anche sotto i vari shampoo però ci sono anche tutti qui quindi proprio non ci si può sbagliare completiamo il trattamento con le maschere eccole qui gli altri trattamenti vediamo il primo set vediamo il set di isidratato che comprende il gel detergente freschezza e l'acqua micellare idratante 2 in 1 a 8,95 oppure a 7,95 il latte detergente idratante e il tonico idratante altro set questo è viso opacizzato e comprende il gel detergente purificante più l'acqua micellare purificante 2 in 1 a 9,95 altro set eccolo qui viso limito con 9,95 il latte detergente limitivo e l'acqua micellare limitiva 2 in 1 eccoci set viso senza imperfezioni con il gel detergente purificante e la lozione purificante a 9,95 un attimo perché con i prodotti tutti i prodotti con 15 euro si ha in omaggio a quel mini trattamento che potete scegliere voi ma con questi invece con le linee l'XC79 ed tutti i trattamenti viso insomma eccole tutte le linee in omaggio si ha invece il siero doppia azione riparazione che è una novità assoluta vediamo se c'è in qualche eccolo qua doppia azione riparazione anti inquinamento eccolo qui il trattamento a 7 giorni è un siero quindi perfetto anche come base trucco ed è una novità assoluta del prossimo album quindi con 15 euro nei trattamenti viso si ha in omaggio questo sempre anche tra questi eccolo qui vi mostro anche un altro set perché lo stoccante anti-tamp che comprende è a 9,95 e la lozione tonico perfezionatrice e il latte del detergente levigante ecco invece da questa pagina quindi dalla BB cream e anche all'inizio del set e anche alla fine insomma tranne i trattamenti viso per farci capire ritorniamo che con 15 euro si ha in omaggio uno dei tre mini taglie a scelta che scegliete a limite o con il codice vediamo ora il set eccolo benessere per i piedi che comprende il gommage piedi la crema nutriente per i piedi e il top coat effetto gel 12,95 vediamo ora questo set profumo frizzante 9,95 comprende il bagno doccia e il latte corpo della fragranza alla mora sempre la stessa cosa anche per la fragranza eccolo qua al mango e coriandolo e sempre il bagno doccia più il latte corpo ovviamente anche eccolo alla lavanda e alla mora sempre bagno doccia e latte corpo cocco sempre stessa cosa e questa è la vaniglia barbon per la promozione questa volta per la cura delle mani qui la vedete meglio il set mani perfette che comprende uno smalto effetto gel top coat effetto gloss e la crema 2 in 1 mani e unghie 9,95 il set e il colore dello smalto lo scegliete voi eccolo qui tra tutti questi quindi c'è sempre la crema mani e il top coat ma il colore dello smalto lo scegliete voi quindi davvero wow è una grande promozione altra promozione siamo quasi alla fine è due matite colore vegetale a 12,95 scegliete voi il colore tranquillamente eccole qui tra questi e eccole tra queste e queste la prima matita con il codice nero la seconda col codice rosso due matite a 12,95 ultima promozione è quella qui la terra abbronzante ed è a 14,95 sia nel colore leggero che nel colore più scuro questo era tutto l'album allora eccoci qui abbiamo concluso il tour abbiamo mostrato tutto allora qui sotto come sempre nelle box di informazioni il link per contattarmi per le informazioni per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf e catalog così potete tranquillamente sfogliarlo sul computer sui tablet dove volete io vi ricordo che è l'album numero 11 che è valido fino al 13 settembre del 2016 e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con l'immagine catore al mondo di Veroce